Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Per chi non lo sa, io sono Davide e oggi sono qua a fare una parodia Allora, prima di iniziare Poi di giorni fa avevo fatto su Instagram un sondaggio E vi avevo chiesto Vi piacerebbe vedere in questa settimana una parodia? Incredibilmente tutti quanti mi avete detto di sì Se ancora non mi segui su Instagram, corri subito in questo momento Mi chiamo GangsterLink Prima di tutto vorrei precisare una cosa molto importante Non offendete questa bambina E oggi andiamo a prendere in giro diciamo il suo video E niente, si inizia con la parodia Siamo belli carichi E si può iniziare con il video Mi raccomando, ora però arriva la sigla Vai sigla! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Carlotta E in questo primo video del canale volevo dirvi Perché mi sono lasciata con il mio ragazzo? Guarda, siamo molto interessati Non vediamo l'ora di sentire quello che ci vuoi dire Siamo tutti belli carichi Perché ti sei lasciata con il tuo ragazzo? Perché? Perché? Premetto che non è colpa mia Non è colpa mia Certo, certo, non è colpa tua Come al solito la colpa è sempre degli altri Certo Tutti dicono così Perché lui ha fatto l'ulto di sesta sua Che cosa? Aspetta, risentiamo Ha fatto l'ulto di sesta sua C'è ragione, di sesta sua E ora parleremo proprio di questo Ma perché ho questa faccia? E ora parleremo proprio di questo Ma che cosa stai facendo? I music li? Aspetta, lo faccio pure io Praticamente Ehm Ok Praticamente Praticamente Allora Mi spieghi perché stai facendo tutti questi versi Tutti questi gesti Ce la fai? Sta un attimo ferma Composta E tranquilla Perché ci stai mettendo tutti quanti ansia Che aspetta Che cosa? Ma la puoi lasciare sta quella povera telecamera? Ogni due secondi la devi muovere? C'eravamo fidanzati già da un mese Ehm E lui appunto Ehm Non lo so Dopo un mese Si è Ha messo proprio La X Ha messo la X? Ma dove siamo? X Factor? Ha detto Basta Io con te ho chiuso Basta Stop Selfie Ah quindi lui ti ha detto così? Ah basta Io con te ho chiuso Ah basta Selfie Raga ma che stiamo vedendo? Ragazzi Ma mi svegliate un attimo? Cioè Ho tanta stima per questa bambina Però Se l'ha lasciata un motivo Cioè Ma come vi parlate così? Tra di voi? Ehm E niente Adesso vi dico Le stronzate Le mega stronzate Che ha tirato Sentiamo Sono veramente curioso Anch'io sono curioso Non ci sto credendo Curioso Forza Raccontaci tutto Ha tirato fuori Una storia Che non posso raccontarvi Perché purtroppo È privata Se non ce la vuoi raccontare Perché ce l'hai detto? Noi vogliamo sapere Che cosa ti ha detto Ok? Così non si fa Poi a un certo punto Ha tirato fuori Attacchi di epilessia Oh le ossa Mi scrocchiano Tutte le ossa Stronzate a manetta Praticamente E quindi Niente Abbiamo litigato E ci siamo lasciati Due minuti E tredici di video Per niente Lo hai detto pure tu Due minuti e tredici di video Per niente Mi spieghi perché Allora È impiegato Due minuti e tredici secondi Per dire solo Che il tuo ragazzo Ti ha lasciata Cioè potevi fare un favore A tutti quanti Ci mettevi 5 secondi E dicevi Il mio ragazzo Mi ha lasciata Senza fare tutti quei versetti Che facevi prima Cioè Il senso ragazzi Il mio ragazzo Mi ha lasciata Stronzata a manetta Ok? Ciao ragazzi Oddio Che storia triste Il video di oggi È giunto al termine Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Se è così Iscrivetevi al mio canale E fate esplodere il tasto Iscriviti Noi ci vediamo al prossimo video E grazie mille per la visione Addio Addio Amici Addio Addio Venite domani da noi Ciao